Tu hai finito? Sì, sì, ho finito. Torno a casa, ho promesso al bambino che devo giocare ai soldatini. Quanti anni tu hai? Quattro anni. Sì, piccolino, insomma. No, io invece ho quello piccolino di nove mesi. Sì, ho dieci mesi quasi. Guarda quanto è bello. È un'intelligenza mostruosa. E bambini sono così, al giorno d'oggi. Anche il mio figlio ho riscontrato. Sono precoci. Tu immagina che ieri stavamo a tavolo con mio marito. Quello vede la bottiglia dell'acqua e dice acqua minerale. Cioè quei dieci mesi non ho affatto. Acqua minerale. Com'è possibile? Avrò letto l'etichetta. Così fa proprio magia. L'etichetta. Ciao, ci vediamo domani.